Si chiama Laura Anderson, è una bellissima donna di 41 anni di età, ma è anche una famosa influencer e apparsa anche a Love Island UK, un reality show inglese, nell'anno 2019. A votare il benvenuto a Bonnie, questa bambina figlia, ha votato l'ex fidanzato Gary Lucy a settembre. Pensate che durante una vacanza a Dubai, la donna ha messo tutta una serie di immagini che la ritraggono con Bonnie nella spiaggia, però queste foto non sono state perdonate perché? Perché molti l'hanno criticata spavente per il fatto che, per l'appunto, la bambina sembra essere ostionata e lei pensava a fare foto. Così hanno riportato molti haters, molti rimini da la sera dicendo proprio che per fare foto apparendo quindi con il sole davanti non si è forse resa conto, o meno non si è accorta oppure si è accorta e ha continuato a farlo, la bambina purtroppo rimasta ostionata, infatti rimasta letteralmente bruciata dal suo ricocente estivo dell'estate. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi e commentate, ciao a tutti e una buona giornata a voi.